Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Aliens Bug Hunt, un gioco che vi dico la verità, ho scoperto da non molto tempo perché è capitato un po' come un fulmine al ciel sereno e per un fanatico di Alien e c'ho un video in arrivo, anzi due video in arrivo della roba che abbiamo stampato che vi farò veramente mettere le mani nei apelli, sempre ovviamente collegato all'universo di Alien mi vedo sbucare questo Aliens Bug Hunt della Upper Deck Games che vi ricordo sono gli stessi della serie Legendary Encounters hanno fatto giochi su Predator, su Aliens, su Grosso Guest on a Town, tra l'altro il gioco di Alien più l'espansione Aliens di loro ce l'ho, il gioco di carte cooperativo e hanno fatto un altro gioco che è una via di mezzo fra un gioco di carte e un gioco di miniature e veramente non pensavano nemmeno esistesse, infatti quando l'ho visto in lista ho detto no questo lo devo avere subito, ve ne parlo a breve dopo la sigla Aliens Bug Hunt è un gioco della Upper Deck Games che ci vede nei panni di Marine Coloniali ovviamente se vi ricordate è la famosa frase che viene chiesta il Seggente Pone nel film Aliens prima di lasciarla su l'aco, ma questa sarà un'altra caccia all'insetto è un gioco cooperativo dove noi dobbiamo andare a completare tot missioni, di solito sono tre da regolamento queste tre missioni guidando squadre di Marine e in queste squadre di Marine ci sarà sempre un personaggio speciale che sono i più famosi del film, Hudson, Vasquez, X per farvi capire, Ripley e tutti gli altri saranno Grant quindi ciascun giocatore avrà un personaggio e due Grant, quindi due Gregari che lo seguono e avremo questi Tile in un gioco che poi lo vedete qui davanti è molto contenuto come scatole piccolino però che fa veramente, veramente la sua splendida figura e dovremo muoverci nel complesso sull'LV426 rivivendo più o meno le geste e le azioni che abbiamo visto nel film Aliens un gioco cooperativo molto veloce, un gioco in cui dobbiamo fare la nostra missione e fatta la missione nei tempi stabiliti perché se no poi il complesso verrà, Headless Hope verrà completamente sommerso da Alexianomorfi e missione sarà perduta perché sarà impossibile reggerli dobbiamo riuscire a fare l'obiettivo per scappare ed è un gioco veramente, veramente interessante perché intanto costa poco come spesa si fa sulla cinquantina d'euro e appare un po' vedendolo così come un filler un gioco filler di quelli da fare in dieci minuti invece no c'è anche una bella profondità tattica, secondo me una grande rigiocabilità per il fatto delle missioni ed è un gioco che i fan della saga non si devono assolutamente lasciar perdere vi faccio un pochino vedere come funziona ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco non grandissima però insomma un bel po' di contenuto c'era all'interno Alex Bagant e il disegno sopra è veramente spettacolare non vi fate mettere paura dalla scritta anni, età, 17 o più perché è un gioco ragazzi, veramente, veramente facilissimo e poi non dovete nemmeno tanto essere dipendenti dalla lingua inglese perché anche sulle carte abilità speciali dei personaggi ci sono scritte tre cavolate apriamo fogliettino firmato tra l'altro dall'autore con una specie di briefing principale e un po' una somma delle regole e del mission order per come funziona poi abbiamo un pochino di token che sono tutti quanti i token obiettivo come vi dicevo, i token punti ferita dei vostri personaggi o meglio del personaggio e dei grant queste qui sono caselle per quando sfondate e fate breccia nelle barriere che trovate sulla mappa e insomma un altro pochino di token non sono nemmeno tantissimi perché non servono da morire non ce n'è tantissimo bisogno poi la plancia principale con tutti quanti i vari settori dove voi vi potete spostare tanto ora ve lo faccio vedere meglio col turn order per come funziona la fase delle xenomorfi e questo qui è l'indicatore della pericolosità nel settore su headless hope e qui c'è il mezzo blindato di marine coloniali l'apc che vi fa vedere qual è la zona di fuga plance di cartone bello duro dove dovete mettere sopra la vostra squadra quindi qui vi fa vedere tra l'altro la sequenza del turno questa è la plancia per i giocatori blu poi c'è quella per i giocatori verdi e qui dovete mettere i vostri personaggi la vostra squadra di solito si mette sempre il point man che è un grant qui accanto un altro grant e per ultimo qua giù in fondo mettete il vostro personaggio i dossier fatto veramente molto bellino questa cosa molto caratteristica con dietro il simbolo della Wayland Yutani e qui ci sono praticamente tutti quanti i regolamenti del gioco forse la parte che mi è piaciuta un po' meno perché questo gioco invece di avere un regolamento di 20 pagine ha tipo 3-4 regolamenti non so perché l'hanno dovuta fare così un po' divisa però vabbè comunque si legge si legge facilmente anche perché le regole sono facili qua dentro abbiamo i dadi da tirare per le azioni e che sono anche gli xenomorfi praticamente li potete andare a sostituire con miniature di altri giochi poi qua giù le basette colorate per riconoscere la vostra squadra e delle miniature di marine molto semplici però che fanno la loro figura perché in un gioco di alien senza vedere dei marine per quanto semplici tipo questo qui insomma sarebbe una cosa un po' bruttina invece sono carini sono piccolini semplici come dimensioni sicuramente non roba da modellismo però ci stanno ci stanno bene nell'insieme poi tutte quante le carte da gioco vedete ad esempio c'è il sergente Epon qua su in cima che è uno dei personaggi speciali del gioco e ci sono tutti quanti i mazzi di carte e poi dentro questa bella bustona ci sono tutti quanti i tile su cui vi maverete vi faccio vedere un po' come funziona il regolamento è veramente l'avete visto in fase di unboxing è veramente molto 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 semplice noi abbiamo un tabellone principale in cui ci sono scritte le varie fasi del turno andiamo avanti così degli Xenomorphi per come entreranno in gioco e per gli eventi che potrebbero capitare quindi gli Xenomorphi si muovono o una carta una carta dello Xenomorph Face Deck va presa e va messa nella pietra degli scarti e quindi mano a mano che andrete a pescare carta iniziativa perché questo gioco va con le carte iniziativa quando pescate una carta con il colore che ne so la squadra Marine Rossi muovete Marine Rossi Marine Blue muovete Marine Blue quando invece fra queste carte capita qualcosa degli Xenomorphi il counter va avanti fino a che non finite nel pallino verde che vuol dire che gli Xenomorphi si attivano quindi si muovono attaccano e cose del genere lo scopo del gioco è semplicemente quello di fare di trovare tre obiettivi per ciascun per ciascun obiettivo principale che abbiamo perché noi abbiamo tre obiettivi principali e vedete su ognuno ci sono tre caselline con il simbolo dei Marine Coloniali degli OSCM quindi noi dobbiamo andare in giro per la mappa trovare questi simbolini prenderli raccoglierli e metterli direttamente sulla carta quando ciascuna carta ne ha collezionati tre il primo obiettivo è fatto il secondo e poi il terzo fine dei tre obiettivi bisogna riscappare verso il mezzo blindato e per finire la partita quindi non basta fare gli obiettivi ma anche salvarsi banale dirvi si perde la partita quando la situazione è troppo grande ovvero quando tutto quanto il complesso è stato completamente preso l'assalto dagli Xenomorphi e non c'è più via di scampo per i nostri Marine quindi quando c'è da mettere in campo gli Xenomorphi che in questo gioco sono i dadi e non ce n'è più vuol dire che la missione è completamente fallita o anche quando l'Oxenomorph face deck quindi degli alieni finisce non ci sono più carte da mettere in gioco vuol dire che ormai la situazione è sotto controllo e manca soltanto di fuggire quindi la colonia di Adelesop non è salvabile ci si muove e quando ci si va a muovere ci sanno 8 azioni 3 azioni di solito o meglio movimento azione azione è sparare buttare giù una barricata e cose del genere o prendere un segnale in indizio da quelli che trovano delle missioni in terra o se no possiamo fare 3 movimenti però movimenti in zone già scoperte perché se voi andate in un settore vi spostate da un tile all'altro ma il tile successivo non è ancora stato scoperto il vostro movimento finisce non potete fare le vostre 3 azioni quindi 3 azioni solo su una strada appunto appena scoperta nel gergo dire senza foco of war la mappa è divisa in tot livelli e ciascun livello può mettere fino a 6 tile poi ci sono regole particolari che quando faranno spawn voi dovete andare a vedere con la carta rilevatore di movimento bellissimo hanno avuto una bella idea dovete andare a contare quanti pallini ci sono e di conseguenza li dovete andare a mettere nei punti dove spawnano dove sulla mappa c'è segnato non è che vanno messi casualmente almeno che in quelle zone non ci sia il segnalino allora comunque un po' le regole vi vengono incontro su dove andarli a mettere però il vostro scopo è quello di muovere le vostre unità attaccare gli xenomorfi perché non li dovete solo evitare li dovete anche attaccare perché come vi ho detto si iniziano ad essercene troppi nel complesso la missione è fallita quindi ci vorrà che qualche squadra vada un pochino a ucciderli e le regole sono semplici tirate il dado che il dado è lo xenomorfo però per quanto io ho già fatto un pimpa a questo gioco perché non potevo vedere gli xenomorfi rappresentati da un dado andate a tirare il dado se sul dado esce fuori un dente vuol dire che non solo non l'avete ucciso ma lui vi ha fatto una ferita che è andata a levare ovviamente dalle vostre schede scegliete voi o dai grant o dal personaggio quando muoiono i grant avete meno potenza di fuoco quando muore il personaggio la vostra squadra ovviamente è allo sbaraglio è stata distrutta e se no quando escono altri simboli magari vuol dire che l'avete semplicemente mancato o se li avete sparate in un tile adiacente quindi non era già in corpo a corpo si muove verso di voi le regole ragazzi sono veramente facilissime da spiegare ci vuole niente un gioco di una semplicità disarmante però è un gioco veramente bello perché vi cala vi cala tanto nei panni dei marini coloniali in questa caccia all'insetto e poi ci sono anche missioni particolari magari una missione è trovare un terminale una missione potrebbe essere andata a salvare Newt insomma tutte quante le istituzioni del film aliens qui le ritroviamo valutazione finale è un gioco per me caduto veramente è venuto giù darcelo l'ho scoperto per caso su board game geek cercando alien games non lo so nemmeno io perché quella sera non c'avevo sonno ed è apparto sto bug hunt ma infatti poi è uscito da poco perché è la novità dell'upper deck e ho detto no lo voglio poi ho visto dentro che non ci sono miniature perché gli xenomorphi sono dadi però ci sono quattro marine coloniali bellini tra l'altro che ricordano un po' X Vasquez e tutti loro tra l'altro fatti anche abbastanza bene per quanto piccolini e di plastica ho detto ma un pochino di componenti poi ci sono i tile da montare che mi hanno fatto ricordare un po' un dungeon crawler o il mio gioco della gv preferito space hulk quindi ho detto sai che c'è ci sta da paura e poi costa poco perché c'è l'ho pagato veramente ragazzi 50 euro un gioco che non è un filler manco per niente e ci potrete giocare tantissimo e proprio gli appassionati è un gioco che non vi può mancare nella collezione ma anche per secondo me chi si può divertire fare partite veloci quindi valutazione assolutamente positiva se ne volete ordinare una copia dalla gioco libreria semola che trovate primo link in descrizione e in sovrimpressione e mi raccomando se non lo trovate nello shop della gioco libreria semola scrivete a Corrado il proprietario gli mandate un messaggio privato e gli dite arrivo dal canale di Coridan questo gioco non ce l'ha in lista ma si potrebbe avere lui farà il possibile per ordinarvelo se ovviamente si trova una copia e tutto quanto e per farvela avere al miglior prezzo sul mercato vi ricordo che quando acquistate dalla gioco libreria semola giochi della games workshop o board game o un colore qualsiasi cosa usate sempre il codice discount come vedete in sovrimpressione e in descrizione Coridan 7 tutto maiuscolo al momento dell'acquisto hai un codice discount si Coridan 7 così oltre magari a farvelo spedire tutto quanto avete anche uno sconto del 7% che insomma non fa assolutamente male quindi ringrazio ancora una volta e saluto la gioco libreria semola nostro negozio sponsor e ragazzi dateci un'occhiata perché è veramente una figata e per i fan di alien game over man ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti